Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento per il ciclo I Grandi Pensatori. Oggi abbiamo un nostro ospite, Rav Alberto Sommert, che tutti voi conoscete, e parleremo di Rav Josep Bershlovecic. Prego Rav. Grazie Paola, complimenti per tutto quello che fai e che fate nell'ambito di Kesher, in tutte le attività che la comunità di Milano organizza. È la mia comunità di origine, anche se da 30 anni vivo a Torino ormai, ma mi fa sempre piacere di entrare fra di voi. Un abbraccio virtuale a tutte e a tutti e cominciamo la nostra conversazione, in realtà più che di una conferenza si tratterà di una conversazione. Comincerei dicendo appunto che Rav Solovejic è stato nel novecento forse il più noto esponente della cosiddetta modern ortodoxy americana. Di che cosa si tratta esattamente? L'ebraismo americano, lo sappiamo, è diviso in diverse branche. Le tre principali sono gli ortodossi, i riformati e i conservatives. Gli ortodossi si distinguono da tutte queste altre correnti dell'ebraismo contemporaneo per il fatto di elevare il Talmud e lo Shulchan Aruch a vademekum fondamentale in ogni manifestazione della vita. D'altronde però l'ortodossia stessa presenta dei sottomovimenti, chiamiamoli così, di pensiero diversificati al suo interno. Quali sono i temi della discussione? Questi riguardano essenzialmente tre forme di rapporto, il rapporto con la cultura secolare, il rapporto con l'ebraismo non ortodosso e infine il rapporto con lo Stato di Israele e il sionismo in generale. Faccio qui un discorso evidentemente generale a sua volta. La modern ortodoxy si colloca su posizioni, diciamo così, di maggiore apertura nei confronti di tutti questi temi ed è un movimento che nasce soprattutto negli Stati Uniti dove ha il suo centro intellettuale nella Yeshiva University di New York. Il nome stesso di questa istituzione sintetizza il metodo tradizionale degli studi talmudici della Yeshiva con la ricerca scientifica universitaria intesa in senso moderno. Allo scopo di passare ogni problematica contemporanea al vaglio della tradizione in una prospettiva dinamica e positiva al tempo stesso si interrogano gli antichi testi rabbinici riproponendoli come possibile chiave di lettura della realtà nel suo costante divenire. La cultura secolare diviene quindi un referente obbligato di tale metodo mentre con gli ebrei non ortodossi deve essere ricercato un dialogo sui temi che lo consentono come quelli della politica, della convivenza e della vita sociale. Quanto alla realtà dello Stato di Israele pur non avendo questa un presupposto religioso va considerata come una tappa comunque importante nel nostro cammino verso la virulà, verso la redenzione finale. Come diciamo tutti sabati mattina nella tefila Reshit Semichat Geullah Tenu. L'esponente di spicco di questo movimento, dicevamo, di questo pensiero è il Rav Yosef Dov Soloveicic che è nato in Polonia nel 1903 a Prozan e deceduto negli Stati Uniti nel 1993. Vediamo qui alcuni, un piccolo profilo biografico. Suo nonno era il Rav Chaim di Brisk e insegnava nella famosa Yeshiva di Volojin, la grande scuola talmudica simbolo del modello lituano di cui ha parlato Rancolomo la scorsa settimana. Rav Soloveicic esprime un rimpianto commosso nei suoi scritti ricordando l'ebraismo della mitte l'Europa anteriore all'avvento del nazismo in cui lui stesso era cresciuto. E dalle informazioni biografiche che possediamo sappiamo che la madre ebbe una grande influenza su di lui. Si narra che dopo averlo affidato a un precettore negli studi ebraici, non persuasa dei risultati raggiunti dal giovane Yosef, convince il padre Moshe, suo marito, a farsi carico personalmente dell'istruzione del ragazzo. E di questa relazione si avverte un'eco accorata negli scritti in cui Rav Soloveicic rivendica l'importanza della madre nel Talmud Torah dei figli accanto al ruolo del padre e la paragona addirittura alla Shekhinah che richiede solo di essere riconosciuta, che il bambino sia consapevole cioè che la mamma è sempre al suo fianco. Rav Soloveicic avrebbe poi ricevuto anche un'educazione secolare più tardi, sempre tramite insegnanti privati. dalla madre ereditò anche l'interesse per la letteratura e la filosofia, nonché un certo temperamento romantico che integrò il rigore metodologico delle sue analisi. A 22 anni si iscrisse all'Università di Berlino dove studiò matematica e poi filosofia. Fu fortemente influenzato dalla scuola neocantiana rappresentata da Herman Cohen, dedicando al pensiero di quest'autore la sua tesi dottorale nel 1931 e l'anno successivo nel 32 emigrò a Boston negli Stati Uniti dove assunse la direzione spirituale della locale comunità ortodossa e fondò il liceo Maimonide, la prima scuola ebraica a tempo pieno degli Stati Uniti, cercando di risvegliare l'attenzione sui valori ebraici tradizionali sempre messi in rapporto con la vita moderna. Nel 41, dopo la morte del padre, ne ereditò l'incarico di professore di Talmud al Rabbi Yitzhak el-Khanan Teological Seminary affiliato alla Yeshiva University di New York e contemporaneamente la Catedra di Filosofia Ebraica nella stessa università. Si affermò come figura leader dell'intero ebraismo ortodosso americano in qualità di presidente della Commissione Alachica del Rabbinical Council of America e del Movimento Misrachi d'Oltreoceano. Le sue lezioni erano seguite da un vastissimo uditorio di studenti e ancora oggi è conosciuto, considerato alla Yeshiva University, il RAV per Antonomasia. Fedele alla tradizione del nonno, alla tradizione di Brisk, cui aderisce la famiglia, la sua famiglia, pubblicato personalmente pochissimo. Diversi saggi tratti dalle sue lezioni e conferenze sono state successivamente dati alle stampe dagli allievi per iniziativa dei discepoli e uno di questi è stato tradotto in italiano pubblicato dalla Giuntina nel 1998 sotto il titolo Riflessioni sull'ebraismo. È una traduzione che abbiamo fatto noi da Reflections of the RAV o in ebraico per Hakim de Makhshevetarav. Il primo suo scritto in ordine cronologico, scritto da lui, è comunque Sacred and Profane in World Perspective, sacro e profano nella prospettiva universale, scritto nel 1945, subito dopo la guerra, ed è la base del suo pensiero religioso. Lontano dall'assicurare un rifugio contro l'angoscia del destino, dice Rav Soloveitchi, che la religione è continua fonte di problemi, in quanto essa rivela all'uomo l'insolubilità del mistero dell'universo. La Kedusha non è un paradiso, dice, ma un paradosso. Fede e morale, secondo lui, sono inseparabili. Se non è possibile l'etica senza la religione, afferma, non è neppure possibile d'altronde la religione senza etica. Di più, se la religione si corrompe con l'immoralità, essa volta faccia e diviene una forza negativa e distruttrice. La Allahah, il diritto ebraico, il rito, al servizio della Kedusha, parola che di solito traduciamo impropriamente con santità, è dunque sforzo continuo, sfida incessantemente volta alla santificazione del profano. La parte centrale di questo breve testo è essenziale. Commentando un'affermazione della Mishnah, secondo cui una dote fondamentale dello studioso è conoscere il proprio posto, hammakir et mekomo, in ebraico, Rav Soloveynchik sostiene che la Kedusha non trova espressione solo nel tempo, ma anche nello spazio. Del resto, makom, che significa luogo in ebraico, sappiamo, è uno dei nomi di Dio. E scrive che come il sedentario è superiore al nomade, in quanto dispone di un proprio luogo di riferimento sulla terra, così anche nel dominio spirituale, il sapiente è superiore all'erudito. Mentre l'erudito accumula un sapere indiscriminato e sovente non vagliato, il sapiente ha il vantaggio di prendere posizione. La tragedia di molti ebrei moderni oggi, scrive, non risiede in una mancanza di conoscenze, anzi la cultura è diffusa, la cultura ebraica, ma piuttosto nella mancanza dell'esperienza vivente dei valori, nella relazione appassionata del fedele con l'oggetto della sua adorazione. Bellissimo questo linguaggio con cui rileva quali sono i problemi dell'ebraismo contemporaneo. È difficile non leggere già in questo atteggiamento un cenno di difesa della terra di Israele come sede di Kedusha che verrà poi approfondita negli studi successivi. La terra di Israele è Kedusha nel luogo, nello spazio, a sua volta. È possibile parimenti vedervi una polemica contro la dottrina di Avrami e Israele nel sabato, un testo che negli anni 70 è stato tradotto in italiano con grande fortuna e che è stato pubblicato la prima volta nel 51, cioè sei anni più tardi, lo scritto di Soloveicic di cui stiamo parlando. Avrami Israele, che era un filosofo riformato, sosteneva infatti che l'ebraismo erige le sue cattedrali nel tempo soltanto, lo Shabbat è il simbolo di queste, di fatto sgravandolo però da ogni impegno nazionale che invece nel mondo ortodosso e in particolare nel sionismo ortodosso di Rav Soloveicic è centrale. Un altro scritto che tuttora fa discurre di Rav Soloveicic è Confrontation, confronto del 1964 ed è la presa di posizione adottata per molti anni dall'ortodosia americana sul dialogo interconfessionale all'indomani del concilio Vaticano II. Il nuovo corso della Chiesa cattolica, in particolare nei confronti di non ebrei, ha suscitato, lo sappiamo, reazioni molto diversificate fra i nostri intellettuali. E se fra i liberali, il filosofo Emanuele Vinas soggiungeva a considerare il cristianesimo addirittura una rivelazione alternativa all'ebraismo. D'altra parte, fra gli ortodossi, Rav Eliezer Berkowitz, altro grande esponente dell'ortodossia americana, accusava apertamente la Chiesa di essere mandante morale della Shoah, implicando che nessun dialogo è possibile. La tesi di fondo di Rav Soloveitchik su questo delicato argomento è che ogni comunità di fede, in quanto tale, ha la sua individualità che non può essere messa in discussione. L'uomo non merita il dialogo finché non è arrivato ad un confronto personale con se stesso, scrive Rav Soloveitchik riferendosi a noi ebrei, mentre, riferendosi ai cristiani, dice che dall'altra parte ci deve essere una rinuncia ad ogni velleità di sopraffazione culturale. Quindi noi dobbiamo, noi ebrei, prima di intavolare un dialogo con i cristiani, dobbiamo averchiare tutte le nostre posizioni e sentirle. D'altronde ci aspettiamo che i cristiani evitino qualsiasi tentativo di convertirci evidentemente o di attrarci alla fede in Gesù. Ma ciò risulta di fatto impossibile, dice Rav Soloveitchik, dal momento che ogni religione ha la pretesa di essere depositaria della verità assoluta. In questo senso, dice, è disonesto non solo rinunciare ai propri principi per venire a parti con quelli dell'altro, ma anche chiedere all'altro di derogare ai suoi. E quindi meglio evitare il dialogo teologico tukur, piuttosto che vedere un ebraismo che si annacqua di fronte al cristianesimo, o d'altronde chiedere al cristianesimo che riveda i propri dogmi in funzione nostra. Entrame le posizioni sarebbero disoneste. E quindi solo sul piano pratico e sociale, ma non su quello dottrinale, si può pensare, dice Rav Soloveitchik, che le comunità religiose sviluppino un'azione comune. È interessante che la generazione successiva dei suoi stessi allievi, oggi in funzione anche di un, come si dice, di un'evoluzione che esiste anche nell'atteggiamento della Chiesa nei nostri confronti, oggi si assume tendenzialmente un atteggiamento molto più liberale su queste cose. D'altronde io mi domando se Rav Soloveitchik, ancora a noi uomini e donne del 2000, non ha qualche cosa da comunicarci, da insegnarci anche su questo delicato terreno. Il saggio più importante di Rav Soloveitchik resta comunque Ish'a Allah'a, scritto in ebraico e mai tradotto in italiano, esistono delle traduzioni in inglese e in francese, in cui delinea forse per la prima volta nella storia una filosofia dell'alakha come il prodotto più originale dell'ebraismo, non solo sul piano giuridico-ritualistico, ma anche intellettuale. Dato un testo che è la Torah, rivelato personalmente da Dio e pertanto immutabile e insostituibile, esso viene consegnato all'uomo una volta per tutte perché lo reinterpreti, senza che neppure Dio stesso possa da allora in poi essere richiamato in causa. Questa è una delle basi dell'ebraismo, la Torah non è più nel cielo, è stata consegnata ai Chachamin fra gli uomini perché la reinterpretino. La alakha è dunque partecipazione umana all'iniziativa divina e come tale presenta due aspetti contrapposti, dice Rav Soloveitchik. Da un lato cristallizzazione, dall'altro audacia intellettuale. L'uomo alakicus ha contemporaneamente i tratti dell'uomo religioso ma anche quelli dell' intellettuale scienziato. In quanto uomo di fede deve prendere atto dell'inconoscibilità ultima del mistero dell'universo. In quanto scienziato è chiamato al compito di ridurre al massimo il margine di ciò che è sconosciuto. E qui emerge il rapporto di Rav Soloveitchik con la scuola filosofica neocantiana di cui abbiamo già accennato. L'uomo alakicus scrive non desidera affatto conoscere la natura per se stessa, bensì si forgia un ritratto a priori e una forma ideale e la compara con il mondo reale. Il suo approccio alla realtà non ha altro scopo che stabilire un rapporto fra la sua creazione ideale a priori e la realtà immediata. Le leggi e i fenomeni della natura gli servono per confrontarli con leggi e principi precisi la cui origine risale in realtà alla rivelazione sul monte Sinai. Così come il matematico osserva lo spazio in base a dati geometrici ideali. L'uomo alakicus soffre certamente per le sue intime contraddizioni fra aspirazione alla ricerca e consapevolezza dei suoi limiti. Ma lungi dall'abbatterlo tali contraddizioni creano in lui una figura profondamente positiva, una personalità fortemente ancorata alla santità, alla kedushar, di un livello assai superiore a quello di una coscienza religiosa ordinaria. L'ebraismo in sostanza, dice Rav Soloveitchik, ha un approccio scientifico alle proprie fonti ed è su quello in realtà che la Chokhmà ha il suo centro in sostanza. Quindi non nella fede cieca in un mistero ma nella ricerca della verità attraverso un confronto continuo con i testi che richiama da vicino l'attività dello scienziato per molti aspetti. E qui abbiamo quindi già l'enucleazione di un di un doppio elemento. Lo vedremo questo. Spesso il pensiero di Rav Soloveitchik si attua attraverso il confronto fra due elementi contraposti, attraverso un'analisi di questo tipo. Fra le opere pubblicate dall'autore originariamente in inglese, qui abbiamo parlato di un'opera in ebraico, adesso parleremo di un'opera in inglese, va segnalato The Lonely Man of Faith, tradotto da Vittorio Robiati Ben-Daud per la Belforte nel 2016 con il titolo di La solitudine dell'uomo di fede. Una traduzione francese dice invece il credente solitario. Questo testo è stato scritto, dicevo in inglese, nel 65 nell'ambito di un progetto universitario per lo studio degli atteggiamenti religiosi di fronte ai problemi psicologici. Sostiene Rav Soloveitchik che l'intelletto non può fissare la via sulla quale procede l'uomo di fede, può solo descriverla a posteriori. L'intelletto segue e non precede il credente. Troviamo in questo testo la sua dottrina dell'uomo. Rav Soloveitchik rileva l'esistenza di un duplice racconto della creazione all'inizio di Bereshit con l'impiego di due diversi nomi divini. Nel primo capitolo l'uomo è lo scopo finale dell'opera mentre nel secondo egli è collocato al centro. Questa duplicità che in età moderna ha portato alcuni a mettere in dubbio l'unità stessa della famosa teoria documentaria, la fonte E e la fonte J basata sui diversi nomi divini. C'è chi ritiene che il primo capitolo sia di origine babilonese, il secondo di origine cananea ma non entro adesso nella critica biblica. Il Rav naturalmente la spiega in modo coerente, in modo diverso come prodotto di un'unità di fondo ovviamente, secondo la tradizione nostra. La Torah vuole mettere in luce attraverso questo duplice racconto che la stessa condizione umana nasce ambivalente. Da un lato l'uomo è la creatura più potente ma dall'altro egli si ritrova sgomento dinanzi alla solitudine del suo ruolo che è per lui fonte di una crisi esistenziale profonda. L'attenzione alla personalità umana in ogni suo aspetto è centrale anche in molte sue lezioni. L'uomo, dice Ravsolo Reicic, è vulnerabile e solo e ciò trova a sua volta espressione nella Alaha. Così egli spiega in un suo scritto sul Beta Knesset la necessità della più netta separazione fra uomini e donne nel corso della Tefillah, in polemica con l'ebraismo riformato che sappiamo la pensa diversamente. Scrive che se ciascuno potesse pregare attorniato dai propri familiari in tutta quiete, la preghiera stessa in quanto espressione invece dell'angoscia esistenziale individuale perderebbe senso. Parimenti, Ravsolo Reicic sostiene che Korach nella Torah si sia ribellato all'autorità di Kadosh Baruch Hu proprio perché anteponeva la soddisfazione materiale derivante dall'esecuzione di una mitzvah alla mitzvah stessa. Secondo Korach i precetti si prestano dunque a essere cambiati in funzione della percezione che l'uomo ne ha di volta in volta, quello che noi chiamiamo modernamente il buonsenso. È il mio buonsenso a farmi decidere a quali mitzvot aderire e a quali no. E così la pensano effettivamente molti ebrei assimilati moderni. Ma la realtà è inversa. Il godimento può essere un effetto dell'osservanza ma mai un movente. La mitzvah resta tale e anche la sua alaka evidentemente il godimento che ne deriva può essere un fatto secondario. D'altronde egli dedica un intero saggio a commentare l'affermazione di Resh Lakish nel Talmud per cui chi fa teshuvah per timore trasforma le sue colpe volontarie in semplici errori mentre chi fa teshuvah per amore ha la facoltà di trasformarle addirittura in meriti. Su questo Rav Solomaychik ha un commento bellissimo e gli insiste sull'importanza di valorizzare anche gli aspetti più deboli della persona nel momento in cui questa decide di trasformarsi e migliorarsi invece di rigettarli completamente. In questo modo conferisce un forte incoraggiamento a quel movimento di teshuvah che ha interessato molta parte della gioventù ebraica a partire dagli anni settanta del secolo scorso. Nel commentare il peccato degli esploratori Rav Solomaychik insiste molto sul fatto che la loro mancanza non sarebbe consistita nel voler conoscere la terra di Israele in anteprima ma nel non aver saputo coglierne la segullà. Il suo carattere peculiare complessivo al di là dei singoli dettagli il nostro rapporto con la terra scrive è come una relazione nuziale. Secondo la halakha lo sposo è sì tenuto a conoscere la sposa in vista del matrimonio. Il matrimonio non si fa mai alla cieca però non ha il tempo e il modo di approfondirne tutti i particolari del carattere prima di compiere la sua scelta. Sappiamo che molti aspetti vengono fuori poi in corso d'opera e la scelta è affidata al sentimento e all'intuizione del momento. Questo è l'innamoramento in sostanza. Rav Soloveitchik mostra un'attenzione alla psicologia della condizione umana anche nello spiegare le regole di Pesach. Passati dalla condizione di schiavi a quella di uomini liberi per prima cosa gli ebrei dovessero riappropriarsi della nozione di tempo. Da qui il precetto del pane non lievitato della mazzà e del divieto del camez per insegnare all'uomo libero che se vuole realizzarsi deve imparare anzitutto a far tesoro del proprio tempo. Ti do la farina, ti do l'acqua, hai 18 minuti per fabbricare il tuo pane. Se ne passi uno di più è tutto da buttar via. Perché la vera differenza tra lo schiavo e l'uomo libero non è nella fatica del proprio lavoro. Ci sono degli uomini liberi che lavorano moltissimo. Viceversa lo scopo per cui lavora. L'uomo libero, a differenza dello schiavo che appartiene ad altri, lavora per sé. L'uomo libero ha un progetto, lo schiavo no. E per attuare questo progetto il nostro tempo è sacro. Tornando alla solitudine dell'uomo di fede, Rav Soloveitchik si propone, scrivendo questo testo, di reagire all'indifferenza religiosa della nostra epoca, così diversa e tanto più profonda di crisi analoghe dei tempi passati. L'autore non propone una soluzione, ma si limita ad analizzare il problema. Egli non scrive del mondo o di Dio, bensì dell'esperienza umana di entrabbi. Non scrive dall'esterno in modo impersonale e normativo, bensì dall'interno, partendo dalla sua stessa esperienza autobiografica. Egli traduce l'autobiografia in teologia, costruendo tipi ideali che non corrispondono esattamente a persone reali, ma che forniscono schemi utili all'analisi del nostro mondo interiore. Tutto ciò su cui andrò soffermandomi, scrive Soloveitchik nella sua introduzione, non è dunque derivato dalla filosofia e dalla sua dialettica, né da speculazioni astratte, né da situazioni personali disincarnate, bensì da situazioni reali e da esperienze concrete con cui ho dovuto confrontarmi. I tipi su cui Rav Soloveitchik elabora il proprio pensiero sono in genere contrapposti sul piano dialettico, questo l'abbiamo già accennato. L'uomo, nella sua esperienza concreta, si trova a oscillare fra essi. Il metodo deriva a Rav Soloveitchik dall'approccio analitico di Rabbi Chaim di Brisk alle controversie talmudiche, dove troviamo visioni inconciliabili tra loro su un certo testo, dobbiamo postulare due diversi approcci concettuali, due modi diversi di concepire e affrontare la realtà, spesso alternativi e complementari. Come strumento eromeneutico di interpretazione, è un metodo potente che applica a temi filosofici universali e astratti, criteri distintivi di solito adoperati per i casi specifici e concreti sui quali di solito verte il diritto talmudico. In sintesi, egli parte dall'esperienza personale, la trasforma in tipologia generale e, infine, va alla ricerca e alla riscoperta di questi tipi nel racconto della Torah. Egli parte, dicevamo, dai primi due capitoli di Bereshit. Non li vede come due fonti differenti dello stesso racconto, ma come due tipi, due visioni complementari della dualità che costituisce l'essere umano. Abbiamo un primo Adamo, descritto come creato a immagine divina, nel primo capitolo. Compare al culmine di un processo creativo che, come sappiamo, dura sei giorni e aspira a diventare il maestro della natura. Ricrea il mondo secondo norme scientifiche, etiche ed estetiche, allo scopo di afformare la propria dignità. Come dice la Torah alla fine di quel capitolo, riempite la terra e conquistatela, quella che Rav Solvejcik chiama la dignità maestatica dell'uomo. Per il primo Adamo, dunque, la religione ha il suo ruolo nella società come culto e conforto, ma non come fede vivente. La compagna è creata insieme a lui, lo accompagna fianco a fianco come una collaboratrice, come se fosse seduta al nostro fianco. Il secondo Adamo, nel secondo capitolo, invece, non è descritto al culmine del processo creativo, al termine della creazione, ma nel mezzo di esso, se ci fate caso andando a leggere i versetti. Egli è fatto con la polvere della terra, cioè insignificante. Il suo comando è servire e proteggere il giardino dell'Eden. Egli aspira non alla dignità, non ad affermare se stesso, ma a un'esistenza redenta. Conscio della sua unicità, tenta di vincere la propria solitudine esistenziale cercando un'autentica e reale comunicazione con l'altro. Ha bisogno di comunicare con l'altro, altrimenti si sente debole e solo. La compagna viene fornita solo dopo la constatazione che non è bene che l'uomo sia solo. Essa qui non procede al suo fianco, ma di fronte a lui che ne vedo, non come un'alleata fedele collaboratrice, ma come una compagna esistenziale che allevia la sua solitudine. Egli si interroga non sui mezzi, ma sui fini dell'esistenza. Non cerca la dignità sociale, ma l'unione autentica con Dio e con il prossimo. La comunicazione non è un movimento di conquista in questo caso, ma di rinuncia e di ascolto. Nella comunità credente dell'alleanza è per intermediazione di Dio che l'uomo incontra il suo prossimo, in una relazione fraterna che gli garantisce la sua liberazione e la sua salvezza. La redenzione non è controllo dell'uomo sugli altri, ma su se stesso, in cui percepisce se stesso come legittimato e ancorato in qualcosa di stabile, attraverso la disponibilità al confronto e persino alla sconfitta di fronte a un altro essere. E qui emergono le differenze con un altro pensatore del suo tempo, Martin Buber, che vede invece nell'immediatezza del rapporto ich-du, io-tu, la fonte del rapporto con la divinità. Invece per Rasolejic è l'inverso. La comunità dell'alleanza è possibile solo previa la mediazione e l'intervento divino. Ciò conferisce all'incontro una dimensione oggettiva e necessaria che tenderà a formularsi in una esigenza di concretezza che si esprime attraverso la halakha. Mentre Buber, che non appartiene al mondo ortodosso, insiste sul carattere eminentemente spirituale dell'incontro, sul riconoscimento dell'altro con il soggetto. Mentre Buber non si piega all'idea di di un imperativo concreto, per Rasolejic la halakha, il comando divino, conferma l'uomo nella sua esistenza, le dà un significato e forma la base della comunità, dell'alleanza che costituisce il popolo di Israele. Rasolejic spiega quindi in questo modo anche la differenza dei nomi divini rispetto ai due primi capitoli di Bereshit e riporta il nome Elohim del primo capitolo Bereshit Barah Elohim al dio cosmico. Mentre il tetragramma Yud-Hei-Vav-Hei che appare nel secondo si riferisce a una rivelazione intenzionale per scopo la redenzione dell'uomo. Ha trovato la sua prima espressione sul monte Sinai e si è proseguita attraverso la profezia e quando questa si è interrotta attraverso la tefillah, la preghiera, che è un'iniziativa umana. Profezia e preghiera, diremo con linguaggio matematico, hanno lo stesso vettore pur cambiando di senso. Nella prima è Dio che parla all'uomo, la profezia, mentre nella preghiera è l'uomo che parla a Dio. Questa è un'esperienza collettiva che risponde a un'esigenza normativa e non semplicemente a un bisogno individuale interiore. Questa dualità e questa tensione dialettica sarà superata solo ai tempi messianici. Di qui la solitudine dell'uomo di fede che muove l'uomo come un pendolo, diciamo così, fra attività e passività, possiamo dire. La legittimità della ricerca scientifica e del progresso tecnologico, il primo Adamo, come atti perfettamente conciliabili con la fede del secondo. O meglio, il conflitto c'è, come si è visto, ma interamente contenuto nell'ambito religioso. La religione non è uno strumento di oppressione, di appiattimento e di asservimento, né di contentus seculi, di, come si dice, di disprezzo della mondanità, come sostenevano illustri pensatori anche nell'età moderna, da Marx a Hegel a Nietzsche. La stessa Allahà, abbiamo visto, promuove la ricerca intellettuale persino nell'ambito della fede e l'uomo Allahicus condivide assai più dello scienziato che non dell'uomo religiosus nel senso convenzionale del termine. Il conflitto fra culture, fra religione e scienza passa da un antagonismo statico a una oscillazione dinamica all'interno dell'anima del credente. Rav Solovejic ha preso il dilemma della modernità e lo ha identificato con le radici dell'umana esistenza fin nei primissimi capitoli della Bibbia. Infine alcune parole su un'altra sua opera, Coldo di Dofec, pubblicato a sua volta in traduzione italiana da Belforte, ad opera di Vittorio Rubiati Ben Daoud, che ringrazio insieme a Guido Guastalla per queste opere importantissime di diffusione nella cultura ebraica italiana, la traduzione del 2017. Il testo di Rav Solovejic è del 1969 all'indomani della guerra dei sei giorni. Coldo di Dofec è una sorta di manifesto, se così possiamo dire, del sionismo religioso. Abbiamo già accennato all'inizio sull'importanza che per la cosiddetta modern orthodoxy ha lo Stato di Israele. Il titolo è ispirato a un'espressione del Cantico dei Cantici nel quinto capitolo. Nell'interpretazione tradizionale Dio, che è l'amato, bussa alla porta della Kenesse di Israele, l'amante, affinché questa gli apra appunto la porta. Ma quella stessa notte, scrive Rav Solovejic commentando il testo, l'indolenza, frutto di una strana inerzia, possedette l'amante. E così l'amante, la Kenesse di Israele, rifiutò di abbandonare il suo letto e non disserrò la porta. Dopo un breve ritardo, l'amante si svegliò dal proprio sonno e sorbalzò in fretta nel suo letto per salutare l'amato. Ma il suo sussulto giunse troppo tardi. L'amato aveva ormai cessato di bussare, scomparendo nell'oscurità della notte. È una bellissima metafora, dice in sostanza Rav Solovejic, per spiegare la difficoltà dell'ebraismo ortodosso di accettare questa nuova realtà rappresentata dal sionismo e dallo Stato di Israele, che si è presentata alle porte della nostra storia all'improvviso dopo l'esperienza tragica della Shoah. Nella notte della Shoah, scrive il Rav, l'onipotente improvvisamente apparve e iniziò a bussare alla tenda dell'amante, cioè del popolo ebraico. A causa del bussare e del battere alla porta dell'amante dolente, vide la nascita lo Stato di Israele. L'amante, scrive Rav Solovejic in una bellissima analisi, bussò alla porta sei volte. La prima nell'arena politica, sul piano delle relazioni internazionali, la rinascita dello Stato di Israele fu un'occorrenza pressoché soprannaturale. Il secondo battito nel campo di battaglia, allorché le esigue forze di difesa israeliane sconfissero le potenti armate arabe. Terzo battito sul piano teologico, con la nascita dello Stato di Israele, tutti gli argomenti dei teologi cristiani, per cui quando è nato Gesù e noi non lo abbiamo accettato, siamo stati mandati in esilio, si sono in realtà rivelati falsi e questo è uno dei motivi fondamentali per la difficoltà da parte della Chiesa di riconoscere la realtà dello Stato di Israele. Quarto battito, nei confronti dei tanti ebrei assimilati afflitti dall'odio di sé, che ora, scrive, assillati da paure nascoste e da grande preoccupazione per qualsivoglia crisi possa attraversare lo Stato di Israele, pregano per la sua salute e il suo benessere. Quinto battito, nei confronti del nostro sangue, che non è senza prezzo. L'ebreo ha riscoperto cioè la facoltà di difendersi nel momento in cui sappiamo di avere l'appoggio di questo paese. La vendetta, scrive, è proibita quando è priva di scopo, ma se si è obbligati a tal punto all'autodifesa, prendersi la propria vendetta è il più elementare diritto umano. Sesto battito, un ebreo che fugge da un territorio nemico ora sa che può trovare asilo nella terra dei suoi antenati. Se Israele fosse nato prima della Shoah, centinaia di migliaia di ebrei avrebbero potuto essere salvate dalle camere a gas e dai crematori. Tuttavia, il miracolo costituito dallo Stato di Israele ha tardato sia pure di poco e per questo suo ritardo decine e centinaia di migliaia di ebrei furono condotti al macello. Adesso, ora che la fase di esterpanim, di nascondimento del volto divino, è passata, scrive, esiste la possibilità per gli ebrei che sono stati sottratti alle loro dimore di mettere finalmente radici in Israele. Tutto questo non dovrebbe essere in alcun modo sottovalutato. Eppure gli ebrei ortodossi devono accollarsi il biasimo per il loro lento passaggio. procedere alla conquista della terra. La terra di Israele non può essere edificata da nessun'altra nazione o popolo. Unicamente il popolo ebraico ha il potere di morare in quella terra e di farne fiorire la desolazione. Anche qui Rav Soloveicic adotta la consueta classificazione binaria dei dati, come la definisce Rav Riccardo di Segni nella postfazione dell'edizione italiana. Rav Soloveicic sostiene che nella Torah il Santo Benedetto ha stipulato con Israele un doppio patto. Il Berit Goral, o patto destino, contratto in Egitto, e il Berit Yihud, o patto missione, raggiunto al monte Sinai. Destino significa un'esistenza di costruzione. E scrive che anche se un ebreo dovesse raggiungere le vette della realizzazione sociale e politica, non potrà mai liberarsi dalle catene dell'isolamento per il fatto di essere ebreo. Di più, un ebreo non può bandire dal suo mondo il Dio degli ebrei, che lo seguirà sempre come un'ombra, nonostante le sue trasgressioni e ribellioni. D'altronde, quattro elementi contribuiscono a definire questo destino in chiave positiva. Il primo è che la sorte abbraccia tutti senza distinzione fra ceti. Il secondo ne deriva da ciò che la sofferenza di un segmento della nazione coincide con la sorte dell'intera comunità. E fintanto che vi è sofferenza comune e compartecipata vi è unità. Terzo punto, ciò si esprime in un sentimento di condivisione, impegni e responsabilità. L'Io non è esentato dai suoi obblighi, fintanto che il suo prossimo non abbia ottemperato anche egli ai propri. A loro volta, i nostri nemici non permettono al singolo ebreo di restarsene da solo. Lo trascinano nella pubblica arena, sì da poter aspramente criticare l'intera comunità attraverso di lui. Una visione veramente profetica. Il quarto punto, l'esperienza condivisa trova espressione nella cooperazione. L'obbligo di compiere tzedakah e gemilut chassadin, atti di carità e di amorevole e sollecita benevolenza, deriva da questo senso di unità. A differenza del patto destino, che non ha richiesto il consenso del popolo ebraico, quello stipulato in Egitto, il patto missione concluso al monto Sinai è propriamente un contratto. Fu proposto e liberamente accettato dal popolo con le parole, no, a sé venishma, faremo e ascolteremo. Atti di misericordiosa amorevolezza e fraternità non sono motivati da un inafferrabile senso di separatezza degli ebrei, bensì dal senso di unità provato da una nazione per sempre sposa del Dio uno e unico, al fine di vivere l'esistenza propria di un popolo kadosh al posto di un'esistenza essenzialmente affidata alla sorte. Due errori, dice, sono stati commessi nel corso del Novecento in relazione proprio al patto destino. Gli ebrei americani non hanno compreso la sofferenza dei loro fratelli in Europa durante la Shoah astenendosi dalla coscienza collettiva di un destino condiviso, non hanno fatto niente per salvarli. D'altronde il cosiddetto sionismo laico ha applaudito il fatto che lo Stato di Israele abbia eguagliato gli ebrei agli altri popoli illudendosi che la nuova realtà potesse toglierci dalla secolare condizione di isolamento. In realtà l'assunto per cui lo Stato di Israele avrebbe potuto indebolire l'antisemitismo, dice Rav Soloveitchik, è errato. Al contrario, e questo lo sappiamo bene anche in giorni nostri, l'antisemitismo si è rafforzato e ampiamente impiega accuse false contro Israele in questa guerra contro tutti noi. Mi riferisco soprattutto a quelle forze politiche che si affiancano a noi, dico io, per ricordare la Shoah, fingendo di dimenticarci che oggi anche l'antisemitismo si è ampiamente aggiornato attraverso le posizioni anti-israeliane. Lo scopo dello Stato di Israele non è quello di annullare la speciale solitudine costitutiva della comunità di Israele o di annentarne l'unitario destino. In questo infatti non troverà mai successo, dice Rav Soloveitchik, ma piuttosto di elevare il popolo, il popolo dell'accampamento, a livello di santa comunità-nazione, trasformando il destino condiviso in missione condivisa. Occorre dunque saper trasformare l'isolamento in solitudine. Infatti l'isolamento è negativo, sottrae all'essere umano la pace interiore. Invece la solitudine gli accorda sicurezza, autostima, senso e fiducia. Come dice la Torah, Israele dimora al sicuro e da solo, dimora al sicuro proprio perché è solo. In conclusione, il pensiero ebraico contemporaneo si confronta con il problema del secolarismo. Mentre Shimshon Raffaele Hirsch credeva fermamente che l'ebreo ortodosso nella Germania dell'Ottocento potesse partecipare all'impresa secolare, a patto che considerasse il mondo esterno su un piano di assoluta inferiorità, in una comunicazione strettamente unidirezionale. Se Rav Cook, il primo rabbino capo dello Stato di Israele moderno, riteneva che la tradizione avrebbe finito per assorbire il secolarismo moderno occidentale, Rav Soloveitchik si rese conto che la coscienza moderna con il suo pragmatismo scientifico aveva sistematicamente emarginato la sensibilità religiosa. Così scrive Rav Sachs in una bellissima presentazione pubblicata molti anni fa del pensiero religioso di questi tre grandi pilastri dell'ortodossia ebraica moderna. La modernità occupa ormai la nostra personalità, dice Rav Soloveitchik nell'interpretazione di Rav Sachs, ed è nella personalità stessa del credente che la battaglia deve essere combattuta senza sperare in una negoziazione esterna. L'ebraismo e la scienza operano su presupposti cognitivi differenti, percorsi paralleli, alternativi l'uno all'altro, che non si intersecano. L'uomo di fede oggi può ottenere rapporti con la struttura mentale della modernità, ma solo a condizione che abbia il coraggio di un incontro duplice con una doppia identità. Come uomo maestatico, egli è parte dell'impresa umana secolare, il primo Adamo, ma come uomo del patto, il secondo Adamo è erede di una tradizione di fede che non può essere tradotta nel linguaggio contemporaneo ed è nutrita di concetti oggi improponibili come sconfitta, vulnerabilità, isolamento, fallimento. Può vivere nel mondo moderno, scrive Rav Saktis dell'uomo moderno di Rav Soloveitchik, ma non gli appartiene. Molti ebrei oggi non sono più preparati a un simile confronto e perciò abbandonano la tradizione. Ortodossia e modernità sono contemporaneamente amiche ed estranei a vicenda. L'uomo di fede è costretto a vivere in questo scomodo paradosso. Grazie della pazienza e buona serata a tutti. Grazie Rav, una bellissima esposizione. Se qualcuno vuol prendere la parola, basta che mi fa un segno. Anzi, facciamo una bella cosa. Io vi do la possibilità di smutarvi. Vediamo un po' un attimo. Ecco, adesso chi vuol prendere la parola può fare in autonomia. Intanto voglio fare complimenti a Rav Soloveitchik perché ci ha dato una lezione straordinaria. Poi lo voglio ringraziare per le citazioni che ha fatto e poi voglio fare una provocazione. Non sarà il caso di pubblicare Isha Laka anche in italiano? Io non ci sto. Lo sapevo Rav. Io ci sto. Le faccio volentieri la traduzione. Così completiamo la trilogia. Mi sembra un'ottima un'ottima idea. Anzi, ringrazio l'amico Guastalla che veramente, insomma, fa veramente tanto per la diffusione della cultura ebraica e italiana. Grazie, faccio il possibile, umilmente e modestamente. Bene, è un testo molto complicato. È un testo molto complicato. Presuppone sia una conoscenza alarchica che una conoscenza filosofica del pensiero kantiano, non indifferente. Quindi con un'adeguata introduzione si può fare. Benissimo. Allora, mentre qualcun altro può prendere la parola, io intanto vi ricordo il prossimo appuntamento lunedì prossimo, avremo con noi Rav Benedetto Carucci che ci parlerà di Walter Benjamin, ricomporre l'infanto. Invece domenica, assolutamente, alle diciassette, non perdete l'appuntamento con analisi demografiche e prospettive per il futuro in Israele. Ne parliamo con Yoram Ettinger, intervistato da Niran Ferretti. E ovviamente l'oratore parlerà in inglese, ma avremo una traduzione simultanea, per cui avremo un'analisi che in un momento come questo è molto importante per qualcuno che vive la realtà israeliana. Qualcuno vuol prendere la parola? Fa un saluto, fa una domanda a Rav Sommek prima di salutarci. Grazie di nuovo, grazie benissima lezione, grazie. Grazie, buonasera a tutti.